Per D'Altanius il bombale è giù, il nemico non esiste più, è D'Altanius che ci aiuterà, non si arrende mai troppo forte, non è nato ancora chi lo batterà. Ha il mente che entra e va, con le astro gambe va, e il suo leone in petto lucirà, tutto disintegra, quando gli girano le lame bumerà.